Prevenire atti di bullismo, cyberbullismo o altri episodi che possono segnare negativamente la vita dei ragazzi. E' quanto intende fare l'Associazione Socioculturale, Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia di Biceglie, che riparte con il progetto dal nome Non odiarmi, con un incontro organizzato nel liceo scientifico bicegliese Leonardo da Vinci. Il progetto infatti mira ad una campagna di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole pubbliche cittadine contro ogni forma di violenza e maltrattamenti in situazioni di disagio e marginalità. A spiegare che cos'è il cyberbullismo ai ragazzi delle classi prime dell'istituto, Alessio Bucci, riabilitatore psichiatrico, e la psicologa Maria Scardinio. Il nostro obiettivo è proprio quello di entrare nelle scuole, di descrivere quando si parla di cyberbullismo e di spiegare ai ragazzi anche a chi rivolgersi nel caso in cui sono vittime o semplicemente assistono a atti di bullismo. Cyberbullismo è un termine utilizzato per indicare il fenomeno che avviene quando bambini o adolescenti si avvalgono dell'utilizzo di internet, dei telefoni o di altri tipi di tecnologia per maltrattare e molestare ripetutamente i propri coetanei. Alcuni dati affermerebbero che uno studente italiano su quattro compie o subisce atti di prevaricazione via web. Il 26% di ragazzi ne è vittima, mentre il 23,5% si definirebbe cyberbullo. I social network sono entrati a far parte della nostra vita quasi come se ci fosse un'identità virtuale che ognuno di noi ha oltre a quella reale e quindi all'interno di questo ambito virtuale si svolgono questi reati. È importante che ci siano degli organismi di controllo che possano arginare questa diffusione che è veramente macchia d'olio. Le scuole sono chiamate ogni giorno ad affrontare la sfida più difficile, quella di educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza di nozioni basilari e alla trasmissione del sapere, ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società. Nelle radii internet e in presenza di nuove forme di comunicazione e condivisione questo compito diventa ancora più cruciale. Nelle scuole avviene, indubbiamente, anche perché i mass media ce li raccontano. Nel caso nostro l'associazione Lucrezia Borgia si è dato questo scopo di intervenire nelle scuole e quindi in questa scuola, partendo da questa scuola che è il liceo scientifico Leonardo Davigi da Biceglie, proprio con il primo incontro che avviene oggi nell'auditorium che riguarda tutte le prime, in modo da poter spiegare ai ragazzi quella che può essere un'idea di prevenzione e quindi fare in modo, inculcando il coraggio di denunciare qualsiasi esempio anche banale agli occhi della società, dove si può nascondere certamente un messaggio indiretto.